Ciao Fiocchini! Oggi ho un gioco bruttissimo qui con me, ho comprato un mercatino, pagato 7€ ma scontato del 50%, quindi 3,50€ Questo è un gioco assolutamente sconsigliato e non da comprare, a parte che è abbastanza difficile perché è un gioco ormai introvabile Allora, il gioco come scritto qui è di Arald Bills basato sull'idea di Marco Pozzi ed è edito da Raven, quindi tecnicamente non dovrebbe essere proprio l'ultimo degli stronzi Diciamo che la sua storia è stata particolarmente travagliata e quindi questa è un'edizione castrata di un altro gioco Il problema è che comunque questo gioco è stato venduto e qualcuno se l'è comprato Ah, questo video fa ovviamente parte sempre del video diario che faccio così da qualche giorno Nel quale metto insieme le cose che mi passano per la testa in questo 2020 Così tra qualche anno lo riguardo e mi dico, ah, avevi ragione, avevi torto Ma che roba! Pazzesco! Comunque sia, che gioco è? Castles Partiamo dalla grafica, prima di tutto Allora, disegno un po' scarsino qua sulla scatola Però, vabbè, potrebbe non essere un grosso dei problemi Alla fine le scatole sono spesso bruttine Il problema è che il gioco, che è fatto da tessere un po' come carcassonne Appunto ha delle tessere che ora vi faccio vedere e ha delle plance Allora, prendiamo una plancia Ok? La plancia più scarna che io abbia mai visto Ci sono due mucche e dell'erba Sembra uno sfondo di Windows XP Ah, ci sono anche degli uccellini Questa è la plancia E il retro c'è questo bellissimo disegno Con questo qua che sembra, adesso non so, credo sia un politico del PD Ci assomiglia un po' Non mi ricordo come si chiama però Ma la cosa peggiore, che sono poi le cose che ci servono Sono le tessere Allora, come funziona il gioco Praticamente peschiamo a turno due tessere Questa roba non si capisce molto bene perché dice che non ci sono turni Tutti giocano assieme Un po' confusionali E si mettono queste tessere Per creare il castello E alla fine si ottengono punti in base al castello più bello Con più standardi Con più pezzi connessi insieme Fine Il problema è che le tessere sono così Adesso non so se si vedono Sono così Ok Questa E sostanzialmente qual è il problema? Che tutto Allora, avete presente com'è Carcasson, no? Carcasson devo costruire una mappa E vengono fuori delle mappe bellissime Perché i pezzi sono molto belli, si incastrano molto bene In questo gioco i pezzi non si incastrano E non si capisce come si debbano mettere insieme l'uno con l'altro In più il disegno che viene fuori Adesso vi faccio vedere un'immagine qui da qualche parte Se la trovo È orribile, terrificante In più Non si capisce bene qual è la profondità strategica del gioco Nel senso che voi pescate Mettete delle tessere Arrivate alla fine Fate dei punti E nessuno ha capito chi ha vinto, chi ha perso Perché ha vinto, perché ha perso A parte il fatto che devi continuare a pescare e mettere tesserine per 10.000 anni Niente C'è anche il manuale che mi sono Il regolamento Mi sono pure riletto per 4 pagine E niente Perché Qual è il punto Dico al Dario del 2050 Che compro un sacco di cose ai mercatini Quando le trovo a poco Un gioco in scatola lo compro Ne ho presi un bel po' Ne ho un bel po' Presi usati Ma alcuni non sono così male Nel senso sono magari un po' scarsini Un po' vecchi Un po' conciati Insomma Sistemando Ma Giocabili Magari non sono il capolavoro della vita Questo Questo Castle Purtroppo No Purtroppo Non compratelo Niente Video così Veloce Arrivederci Veloce